In questo video vedremo come è strutturata l'interfaccia grafica di Geoforce One e come navigare al suo interno. All'apertura del software notiamo il menu dei comandi, sotto adesso la con i medesimi comandi ed infine due finestre, l'albero di lavoro e il terminale. È evidente come non sia presente alcuna interfaccia grafica in quanto nessun documento è attivo e per la stessa ragione l'albero di lavoro è bloccato e solo pochi comandi sono presenti sulla turber. Sia la turber che le varie finestre quali albero di lavoro e terminale possono essere sganciate dall'interfaccia principale, nonché orientate ed agganciate differentemente, cliccando sul grip a sinistra per la turber o sulla barra del relativo titolo per quanto riguarda le finestre. Per creare un nuovo documento si può cliccare sul comando nuovo o alternativamente si può aprire un documento esistente o aprire uno dei documenti utilizzati di recente. Una volta attivato un documento notiamo come sia il menu dei comandi sia la turber si popolino di tutti i pulsanti necessari per la gestione ed analisi di sezioni ed elementi, come si attivi l'interfaccia grafica per visualizzare le sezioni e gli elementi strutturali e come l'albero di lavoro si arricchisca di tutte le componenti relative al documento specifico. Possono essere aperti più documenti contemporaneamente ed è possibile spostarsi da un documento ad un altro cliccando sul relativo tab e notando come l'albero di lavoro si adatti al secondo del documento attivo. Per quanto riguarda l'albero di lavoro si nota come compaiono tre nodi principali. Il primo è quello dei materiali, in cui è possibile definire i materiali utilizzati nel documento. Gli altri due nodi riflettono i due moduli di Geoforce One, in quanto il software permette, tra le varie opzioni, la verifica di sezioni e di elementi strutturali. Ci si può muovere da un contesto ad un altro attraverso il comando File, set a contesto corrente dalla turber, o direttamente con un doppio clic del mouse all'interno dell'albero di lavoro. Sotto ogni contesto è possibile trovare la lista delle sezioni create nel documento e che possono essere attivate con un doppio clic. Per quanto riguarda gli elementi strutturali, si possono trovare tutti gli elementi creati, suddivisi in elementi in cemento armato e in muratura. Si nota come l'interfaccia grafica, nel caso delle sezioni, si è costituita da una sola interfaccia bidimensionale, in cui ci si può solo muovere con il pan, attivato con il tasto centrale del mouse, o zoomando la vista muovendo la rotella del mouse. Nel caso di elementi strutturali, invece, la finestra grafica viene suddivisa in due parti. La prima con le medesime caratteristiche di quella delle sezioni, la seconda tridimensionale, in cui si può orbitare attorno all'elemento tenendo premuto Control e il tasto centrale del mouse. Le due viste possono essere in ogni momento ridimensionate e attraverso un doppio clic del mouse si può passare alla modalità a singola vista e tornare indietro.